Senuti 3, maggioranza 203, favore 357, contrari 48, la Camera approva. Siamo al 16.60 all'orefice. Se nessuno chiede di intervenire con il parere contrario al relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Vigna Roli, Vazio, Carella, Maggioggia, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 410, votanti 407, astenuti 3, maggioranza 204, favore 97, contrari 310, la Camera respinge. A questo punto votiamo l'articolo 16. La votazione è aperta. Onore Palesi, mi rendo conto. Bene, ci siamo? No, onorevole Di Vita. Onorevole Cuzzolino, chiudo la votazione io? Ci siamo? Ci accontentiamo? Va bene, la votazione è chiusa. Presenti 418, votanti 303, astenuti 115, maggioranza 152, favorevoli 295, contrari 8, la Camera approva. Adesso siamo all'articolo 17, per il quale abbiamo bisogno dei pareri. Emendamento 17.50, russo, parere contrario. 17.51, russo, parere contrario. Molto bene il Governo. Conforme i pareri del Governo. Grazie. 17.50, russo, c'è il parere contrario del relatore del Governo e della Quinta Commissione. Intende intervenire, onore russo? Prego. Grazie, Presidente. L'articolo 17 si riferisce alla riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti. Devo dire che non poteva accadere diversamente, nel senso che è evidente che se un esercizio commerciale... Grazie. Grazie. Grazie.